Dal primo luglio di quest'anno, ArcelorMittal entrerà all'ILVA con un piano di 2,3 miliardi di investimenti, di cui 1,1 per il risanamento ambientale. Non si scherza con 20.000 posti di lavoro, non si scherza con l'1% del prodotto interno lordo del nostro Paese, non si scherza con un'azienda che è a cassa ancora per un mese. Questo è insostenibile. Grazie.